La politica lavora in vista delle comunali di Napoli, anche il Partito Socialista, come vediamo in questo servizio di Giuseppe De Caro. In vista delle comunali di Napoli della prossima primavera, il Partito Socialista punta ad inserirsi nell'ambito di un'alleanza larga di centro-sinistra, che possa magari anche ricalcare il modello nazionale. E sui nomi dei candidati alla carica di sindaco che circolano... Il nome di Antonio Bassolino è un nome autorevole, così come gli altri che sono in campo. E noi però, prima di parlare di nomi, abbiamo la necessità di ripartire da programmi che rimettono al centro l'inclusione sociale, il diritto al lavoro che è mancato in questa città e soprattutto la valorizzazione delle risorse che sono incredibili, a partire dal turismo, dal commercio e dal terziario avanzato. Guardando al futuro più immediato, nelle scuole campane è previsto un ritorno alle elezioni in presenza a tappe fra il 7 e il 25 gennaio. Il dato di 15 giorni di apertura per tutto il 2020 sulle scuole in Campania è un dato davvero molto negativo che noi denunciamo. Quindi noi siamo per la riapertura delle scuole, senza se e senza ma. Nel 2021 sarà prioritario sostenere famiglie in sofferenza e imprese in difficoltà, soprattutto in ambito turistico e commerciale. Bisogna evitare di continuare sulla logica dei balzelli e quindi di una fiscalità che sia di vantaggio, quindi lavorare per anche investire su uno sviluppo che sia legato ad una detassazione per le partite IVA, per gli autonomi e poi nello stesso tempo ovviamente rilanciare le azioni a favore dell'economia investendo sui settori più importanti per il Paese.